Questa sera parliamo di un argomento delicato, un argomento che abbiamo voluto affrontare intrecciando il tema della crisi economica, della crisi finanziaria, di quella che chiamano tanti analisti in questo momento stagnazione secolare con quello della crisi climatica. Di per sé si tratta di due argomenti che tengono insieme tanti fattori, c'è una complessità all'interno dei due elementi che comunque li fa intrezzare, anche perché si tratta di due questioni che singolarmente, se vengono prese singolarmente, fanno parte di approcci diversi, banalmente fanno parte anche di schemi mentali, culturali differenti, la crisi climatica, la crisi ecologica appartiene dal punto di vista della sua lettura e della sua interpretazione a un panorama scientifico di interpretazione, scusate il gioco di parole, la crisi economica lo dice il termine stesso, comunque parliamo di economia, parliamo di scienze umane. Io intanto presento gli ospiti di questa sera che sono Augusto De Santis, benvenuto Augusto, attivista della campagna Stop Devastazione e Saccheggio del Territorio per i Diritti Sociali e Ambientali, e Monica Di Sisto, attivista, giornalista e una delle referenti italiane della campagna Stop TTIP. Purtroppo non sono con noi per motivi personali Andrea Fumagalli, che è un economista che avevamo invitato appunto questa sera per entrare più nel merito delle questioni legate alla crisi finanziaria, e Stefania Barca, che però ha inviato un contributo che abbiamo pubblicato oggi su Global Project, del quale dopo ci tengo a entrare in alcuni dettagli per introdurre la discussione. Dicevo prima che affrontiamo due questioni, ma affrontiamo la stessa questione, però per fare questo credo che abbiamo bisogno di fare un salto culturale, un salto culturale ma politico, e provare a sciogliere una contraddizione. La contraddizione che appartiene alla cultura politica di molti di noi, alla cultura politica, alla cultura teorica di molti di noi, e che in parte come centri sociali del nord-est noi abbiamo provato a affrontare con un documento, che è uscito alcuni mesi fa, che si chiamava appunto Apocalisse o Rivoluzione. In questo documento noi abbiamo provato a tematizzare una cosa, ossia il fatto che gran parte della cultura tradizionale marxista, ma anche di una parte più evoluta del pensiero operaista, post-operaista, ha sempre considerato le questioni ambientali, le questioni legate allo sfruttamento della natura, come un sorrogato di un grande rapporto primario fra capitale e lavoro e fra capitale e vita. Io credo che, noi crediamo, come noi anche tanti altri, che la crisi sistemica, proprio nelle forme in cui si è data, supera questa condizione, supera questa condizione perché avviene qualcosa di significativo, soprattutto negli ultimi decenni, ossia il fatto che lo sfruttamento, la capacità di messa a valore della vita di ognuno di noi, si intrezza in maniera irrimediabile con uno sfruttamento intensivo della natura nella sua complessità. Si parla infatti di estrattivismo, si parla di capitalismo estrattivo, si parla di una serie di elementi che tengono dentro un rapporto di continuità, un rapporto di continuità organico, tra quella che è la produzione biopolitica quotidiana, appunto la messa a valore della vita, con quelle che sono le forme di riproduzione biologica, fisiologica della natura. Ovviamente questo meccanismo poi si intreccia con quelle che sono le caratteristiche principali del capitalismo finanziario, la finanziarizzazione della vita, la finanziarizzazione della natura, tutto quello che riguarda il panorama estrattivo. Lo vedremo bene con Augusto per quel che riguarda, ad esempio, l'estrazione di idrocarburi, ma non solo. Tutto questo appunto fa parte di una contraddizione, una contraddizione che andrebbe risolta e andrebbe comunque lanciata in avanti per provare a superare questo schema mentale, ma soprattutto per provare a darci degli strumenti politici e teorici per affrontare al meglio questa fase in cui appunto si intrezzano in maniera irrimediabile capitale, vita e natura. C'è però un'altra contraddizione, in questo cito alcune cose che scrive Stefania Barca nell'articolo di cui citavo stamattina, ossia il fatto che l'ambientalismo tradizionale, quello che storicamente ha messo invece al centro della discussione la natura, l'ecologia, probabilmente in questo momento da solo non riesce, non solamente a leggere la realtà, a leggere quello che sta succedendo, a leggere la violenza con la quale il capitalismo si sta spiegando appunto nel rapporto fra vita e natura, ma probabilmente non riesce nemmeno ad avere quegli strumenti politici per affrontare alcuni grandi temi della contemporaneità. Leggo quello che scrive Stefania Barca. Da un altro punto di vista, per un'ecologia del comune, l'ambientalismo, come oggi lo conosciamo, cioè nella sua accezione più comune, è stato fortemente caratterizzato da mobilitazioni, valori e linguaggi delle classi medie. La crisi climatica globale mostra invece che questa forma dominante di ambientalismo ha raggiunto i limiti delle sue possibilità politiche, essendo stata in larga parte cooptata in schemi di capitalismo verde. Lei fa accenno a quello che succede sostanzialmente fra Rio 92 e Rio 2002, ossia quella che è un po' l'esplosione culturale di quel capitalismo verde, di quel green capitalism, che alcuni hanno pensato fosse comunque la faccia più sostenibile del capitalismo, quello con la quale ci si può approcciare in una maniera, come dire, differente, meno violenta e quant'altro. In realtà adesso stiamo parlando comunque di un'altra fase, una fase in cui abbiamo vissuto realmente dieci anni di crisi sistemiche, abbiamo vissuto dieci anni di devastazioni sociali sulle nostre vite, abbiamo visto come si è fallito qualsiasi tentativo da parte dell'elite di provare a riformare il capitalismo, provare a riformare questo modello di sviluppo, l'abbiamo visto con COP21, quando è completamente fallito, al di là dei pronunciamenti che sono stati fatti alla fine del vertice, è completamente fallito qualsiasi tentativo di mettere a discussione il superamento di un modello di sviluppo. Modello di sviluppo che è appunto quello capitalistico si intreccia in maniera, storicamente si intreccia in maniera assolutamente inequivocabile con le crisi climatiche. Questo lo vediamo dalle serie storiche sul riscaldamento globale che ci troviamo a leggere da quando comunque è nato il capitalismo industriale, ma soprattutto in questi anni comunque il fenomeno del riscaldamento globale, il fenomeno della crisi climatica si intreccia in maniera indissolubile con il capitalismo. È chiaro che questo assume anche altre caratteristiche. La crisi sistemica è una crisi che ha prodotto tantissimo dal punto di vista delle modifiche degli assetti sociali, degli assetti politici. Abbiamo decine di interventi da parte di ONG, decine di analisti che comunque parlano di una distribuzione sociale della ricchezza che è andata sempre più verso l'alto. Ossia in questo momento per la natura estrattiva del capitalismo, sia per quel che riguarda la liquidità, la ricchezza prodotta, sia per quel che riguarda le risorse naturali, queste non riescono a sgocciolare, non riescono ad arrivare comunque alle persone, alla gente, per cui rimangono concentrate nelle mani di pochi. Ed è questo uno degli elementi su cui si basano le disuguaglianze contemporanee. È chiaro che questo poi è sostenuto da un modello di governance che sta radicalmente cambiando gli assetti del comando, sta radicalmente cambiando gli assetti della democrazia.